La colonia fluviale Roberto Farinacci che sulla sponda del Po ospita 1500 ragazzi, inaugurata dal ministro segretario del partito durante il suo giro di ispezione alle varie colonie e istituzioni di regime nella provincia. I piccoli ospiti all'ombra accogliente del bosco della colonia. Nel vasto repettorio i bimbi della colonia hanno avuto per l'occasione un commensale d'eccezione in sua eccellenza starace che ha voluto condividere il loro sano abbondante ed affettoso raggio.